Feltri torna sul caso del giornalista della stampa aggredito alcuni giorni fa a Torino da militanti di Casa Pound. Rispondendo alla lettera di un lettore sul sito del giornale il giornalista Bergamasco ne approfitta per ribadire alcune riflessioni. Un periodo tutto sommato turbolento per la politica italiana, con la stampa più vicina al governo che cerca di attaccare su molti fronti la coalizione di partiti che sono all'opposizione. Feltri ribadisce la condanna all'aggressione del giornalista e sottolinea che altrettanto ha fatto anche Meloni. Nonostante questo non sopporta il fatto che da mesi la stampa e l'opposizione parlino con insistenza di fascismo. Ogni occasione è buona, per una opposizione in crisi e priva di argomenti e argomentazioni, per criminalizzare un esecutivo nonché una maggioranza che dimostra di avere un grande rispetto dei valori democratici posti a fondamento di qualsiasi ordinamento civile e libero. Scrive Feltri. Feltri non sopporta quanti criticano questo tipo di aggressione puntando il dito contro il governo. E aggiunge che non è tollerabile che a sinistra ci siano personaggi politici come Ilaria Salis, sotto processo fino a poco tempo fa in Ungheria. Per Feltri infatti la violenza non ha colore politico, è sbagliata e va condannata sempre. La nostra premier ha, senza ambiguità e senza tentennamenti, condannato l'episodio esprimendo inoltre solidarietà al giornalista aggredito in modo tanto vile, scrive Feltri. Quindi non vedo proprio come si possa sostenere che Giorgia Meloni o i partiti della maggioranza strizzino l'occhio a quei quattro sfigati rimasti ad inneggiare al fascismo. Peccato che lo stesso Feltri dimentichi che la violenza, oltre a quella fisica che è giustamente da condannare, è anche verbale, comunicativa. Quel modo provocatorio di fare giornalismo, di cui Feltri da anni è uno dei massimi esponenti, ha reso sempre più incandescente il dibattito politico. Attacchi mirati e macchine del fango, costruzione di nemici, pubblicazione di dati personali riservati sono chiari esempi di questo modo di fare giornalismo. E sebbene sia diverso dalla violenza politica è in qualche modo una pagina non onorevole per un giornalista che vanta anni di esperienza nel campo. Iscriviti e attiva la campanella.